Circa mille famiglie tarantine vivono grazie alla mitilicoltura. I commercianti che però innestano delle cozze non autoctone creano un danno non indifferente. Circa due mesi fa per questo protestarono in piazza i mitilicoltori dinnanzi alla sede comunale. Oggi un candidato al consiglio regionale per il partito democratico, un politico di lungo corso, Michele Mazzarano, focalizza l'attenzione sul tema. Proprio recentemente l'iente è intervenuto sul PSR chiedendo un sostegno agli agricoltori invece per la mitilicoltura che è ormai da qualche anno purtroppo a Taranto zoppica. Che cosa si potrebbe fare attraverso la regione Puglia ma anche attraverso fondi nazionali? Noi dobbiamo lavorare di più sulla bonifica, accelerare i processi di bonifica che possono consentire i percorsi per arrivare all'assegnazione dei marchi di qualità, alla denominazione di origine protetta che sono gli strumenti essenziali per difendere la qualità del nostro prodotto da una cattiva immagine, una cattiva reputazione che purtroppo per problemi ambientali ed inquinamento il nostro territorio ha. Ma c'è un altro ampio versante della provincia ionica la cui spina dorsale dell'economia è il settore agroalimentare. In tal senso una buona opportunità sono le cooperative di comunità. Una legge che consente sostanzialmente ai territori di aggregarsi su grandi obiettivi e di mettere i cittadini nelle condizioni di accedere ai beni primari, ai beni di prima necessità, ai beni essenziali attraverso meccanismi di solidarietà e di reciprocità, anche di mutuo soccorso. Questa è una proposta della Lega delle Cooperative che il Consiglio regionale ha voluto sposare qualche anno fa e c'è un lavoro in corso che consente a tanti comuni di raggiungere questi obiettivi.